Buongiorno, sono le 7 del mattino, è giovedì 11 giugno, il momento della rassegna stampa, della lettura dei giornali che andremo a fare tra qualche istante. Vi anticipo quali sono i titoli di apertura. Si parla degli stati generali che prenderanno il via sabato a Roma nella residenza del governo di Villa Panfili. Tutte le polemiche adesso legate perché hanno rifiutato sostanzialmente l'invito del Premier Conte, le forze di opposizione hanno detto ci deve convocare a Palazzo Chigi o comunque vogliamo un confronto nelle sedi più istituzionali. Ieri il Premier Conte ha ribadito che Villa Panfili è una sede istituzionale perché è una residenza del governo. Questo per quanto riguarda gli stati generali dell'economia. Andremo a vedere poi nel dettaglio anche vari dati che arrivano che possiamo dedurre da alcune interviste. E poi parleremo di virus perché si parla della zona rossa. È stato convocato il Premier Conte dai PM di Bergamo che vogliono capire perché non sia stata dichiarata zona rossa, in particolare alcuni comuni della Bergamasca. E nelle prossime ore verranno sentiti anche il Ministro dell'Interno Lamorgese, la Ministra Lamorgese e il Ministro della Salute Speranza. Allora andiamo a vedere i titoli di apertura dei giornali. Partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo è sostanzialmente sul no grazie dell'opposizione all'invito di Conte, no del centrodestra a Conte. Le opposizioni disertano gli stati generali, la sede non è ufficiale, il Presidente del Consiglio l'invito, un gesto di attenzione. Poi la zona rossa di cui vi dicevo, zona rossa, il PM convoca a Premier Lamorgese e Speranza irritazione nel governo. E poi un'intervista qui di Paola Di Caro al Vice Presidente di Forza Italia Tajani, che dice a Palazzo Chigi andiamo. Dice ma a Villa Panfili? No, quello che vi anticipavo prima. E poi a proposito di virus c'è un'intervista a Remuzzi in Italia, dice le epidemie sono tre. E ancora vi segnalo di spalla a sinistra di Sabino Cassese questo commento, le misure auspicabili e fattibili. Il governo ha dinanzi due bivi, deve stabilire come coniugare interventi urgenti e decisioni importanti, deve darsi degli obiettivi e misurarne la possibilità di realizzazione. Questo è il Corriere della Sera, andiamo a vedere la Repubblica come apre. Per esempio, zone rosse, i PM da Conte, il Premier interrogato domani assieme ai Ministri Speranza e Lamorgese sui ritardi nella chiusura di Alzano e Nembro. Sono due comuni della Bergamasca dove c'è stato un picco sostanzialmente incontrollato dell'epidemia. Si vuole capire perché appunto non sia stato, i PM vogliono capire perché non siano state subito chiuse e dichiarate zona rossa. Sono tranquillo, replica il Premier Conte, dirò tutto quello che suoi magistrati. Scontro con la Regione Lombardia sulle competenze perché sostanzialmente sembra profilarsi un rimpallo di responsabilità perché la Regione Lombardia non abbia dichiarato la zona rossa. Dice, aspettava il governo e il governo ha replicato dicendo era nell'autonomia della Regione dichiarare la zona rossa. E poi i vertici europei, gli stati generali, il centrodestra diserta. La Repubblica torna sulla vicenda Regeni, quello che non abbiamo fatto, lo dice Luigi Manconi. È molto difficile valutare se la vendita dei due fregati della Fincantieri al regime di Al-Sisi, che è il presidente egiziano, sia più o meno grave del non fatto. Un'azione capace di perseguire la verità sull'assassino di Regeni. Inoltre, in altre parole, è arduo dire se lo scambio commerciale con l'Egitto sia più o meno riprovevole. E così Luigi Manconi, a proposito della vicenda Regeni, torno per un attimo nella parte alta di Repubblica perché per parlare delle conseguenze della pandemia, quasi 200.000 bambini senza asili in nido. Questo è quanto scrive Ilaria Ventura. Vediamo la stampa. Conte la pandemia, non temo i PM, vedete si torna a parlare della zona rossa. Sul caso Lombardia non ho nulla da nascondere, dice il centrodestra diserta agli stati generali. Il capo dell'esecutivo convocato dalla procura di Bergamo per la mancata zona rossa nelle aree colpite. E poi abbiamo di Federico Geremica, di spalla, un pugile finito nell'angolo. L'espressione essere all'angolo è mutuata, come è noto dal gergo pugilistico. E fotografa il momento di difficoltà di uno dei due boxer. Chi è all'angolo per evitare guai deve rapidamente riguadagnare il centro del ring. Per Giuseppe Conte ormai non c'è più dubbio, il centro del ring è inopinatamente diventata Piazza Colonna. Ampio spazio davanti a Palazzo Chigi dove convoca i cronisti ogni volta che i colpi si fanno troppo pesanti. Ieri sera infatti elegante, come sempre c'è tornato. Perché ieri appunto un po' a sorpresa il premere è uscito da Palazzo Chigi e ha incontrato i giornalisti proprio su questo spiazzo davanti al Palazzo del Governo. Andiamo a vedere ancora un altro giornale. Abbiamo libero lo show di Conte a Villa Panfili. I stati generali a cosa servono? A nulla se non a perdere tempo. Giuseppe per dieci giorni, perché sembra che tanto dureranno questi stati generali, inviterà Vip a discettare l'economia. Sperpero a spese di chi è in crisi. Il centrodestra unito non andiamo sia al confronto ma in Parlamento. Vediamo la verità. Altro guaio per il senatore semplice. In questo caso si parla di Renzi. I soldi dall'estero a Renzi. PM aprono un'indagine. Segnalazione all'antiriciclaggio per una triangolazione sospetta con una società campana di recente Costituzione che ha fatto arrivare 75 mila euro da Abu Dhabi, sarebbe il compenso per una conferenza. 7 e 6 minuti. Mi fermo qui con questa prima parte dei giornali. Lì nella regia ci vediamo tra qualche istante. Riprendiamo insieme la lettura. Vi aspettiamo. 7 e 11 minuti. Ben ritrovati. Allora, riprendiamo la lettura dei giornali. Partiamo dal messaggero che apre sulla zona rossa. Scontro PM-Governo. La procura domani da Conte, la Morgese e Speranza sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro. L'esecutivo Fontana poteva chiudere. Gli stati generali slittano a sabato e il centrodestra non andrà. E poi vediamo in questa foto del Premier Conte contestato in piazza. Anche Colau sarà a Villa Panfili. Vi ricordo Vittorio Colau ha messo a punto questo piano di suggerimenti, di indicazioni per gli stati generali. E' il capo della task force voluta dal governo. E poi vediamo quest'altro titolo di taglio centrale sugli statali. Gli aumenti in base al merito. Arrivano i manager. E' pronta la riforma dell'ordinamento professionale dei dipendenti pubblici. Così il messaggero. Vediamo avvenire. Contro l'omofobia le norme già ci sono. Ci sono cinque proposte alla Camera. Confronto politico per un testo che esclude reati d'opinione. In alto i vescovi evidenziano il rischio di regole liberticide, discriminazioni e offese alla vita. Anche avvenire, torna evidenza la questione della zona rossa, i PM sentono il governo. L'inchiesta sulla zona rossa non istituita arriva a Roma. Bergamo le denunce dei parenti delle vittime. Così il quotidiano avvenire. Vediamo il mattino. Anche il mattino quotidiano in Apoio. Lì apre sulla zona rossa. Attenzione governo PM. Vediamo il gazzettino. Primo giorno di scuola. Mattarella sceglie Vò. Andrà infatti ad inaugurare proprio a iniziare l'anno scolastico. Mattarella sarà presente proprio a Vò. Proprio per dare la solidarietà del paese a questo comune. Così particolarmente colpito. E poi sussidio. 800 mila in lista d'attesa. Entra domani l'Inps si è impegnato a saldare 420 mila casse integrati. Ma ci sono altre 400 mila domande. Vediamo il giornale. I PM da Conte. Inchiesta sul Covid con i ministri di Speranza e la Morgese. Sarà sentito sulla mancata zona rossa a Bergamo. Sono sereno. Così è quanto dice. Allora andiamo a vedere adesso gli approfondimenti. Però vediamo l'ultima prima pagina. L'eco di Bergamo. E a Bergamo appunto i PM di Bergamo vogliono capire bene perché non si è stata istituita la zona rossa. E naturalmente anche il titolo di apertura dell'eco di Bergamo. Zona rossa sarà sentito anche Conte. La PM rota a Roma. Ascolterà pure i ministri di Speranza e la Morgese. Il Premier sono tranquillo. Questo è quanto riporta appunto l'eco di Bergamo. E allora andiamo a vedere più nel dettaglio. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Pagina 2. Il titolo naturalmente. I PM convocano il governo. Io sono sereno sulla zona rossa è quanto dice Conte. E allora vediamo il retroscena di Fiorenza Sarzanini. L'irritazione del Premier. Fatta la scelta più rigorosa. Fontana che al governatore della Lombardia aveva pieni poteri. E allora dice la Sarzanini e scrive. La regione Lombardia poteva creare zone rosse in piena autonomia. Se riteneva giusto non aspettare il provvedimento del governo. E questo è il nodo centrale della ricostruzione. Che il Premier Conte farà domani mattina davanti ai pubblici ministeri di Bergamo. E ancora che altro dice. Ai magistrati dovrà chiarire anche che cosa accade a Palazzo Chigi. Dopo la nota inviata dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro. Che suggeriva di procedere intanto per quei due centri. Dove il numero dei contagi da coronavirus si era ormai impennato. E lo farà sulla base di una memoria preparata nelle scorse settimane. Quando si è saputo che era stata avviata l'indagine. E ancora. Si torna dunque al 3 marzo. Quando il Comitato Tecnico Scientifico riceve i dati epidemiologici relativi all'andamento del contagio nella regione Lombardia. In particolare al San Lombardo e Nembrio. In ogni paese ci sono più di 20 casi. L'ipotesi che si tratti di Focolai è altissima. E ancora. Dice ormai. Spiegherà il Premier durante l'interrogatorio di domani. Così scrive la Sarzanini. Che deve aver avuto una conversazione informale con qualcuno vicino al Premier. La situazione era critica in tutta la regione. Quindi era indispensabile capire se limitare il regime della zona rossa a questi due soli comuni. Oppure estenderlo a tutta la regione. Una linea che però non fu condivisa da Brusaferro. E così scrive appunto la Sarzanini. Accanto però vediamo anche che cosa dice. Sempre a pagina 3 c'è questa ricostruzione. Prosegue di quanto avvenne in quei giorni. Si vuole capire perché nessuno prese questa decisione. Dice. Ai magistrati Conte ribedirà che in quei giorni ci furono costanti contatti con i vertici della Lombardia. E spiegherà che tutto fu fatto d'accordo. Sottolineerà che la notte del 7 marzo ci furono richieste di parere dei governatori. Soltanto dopo aver sentito anche i ministri competenti. Si decise di procedere con il decreto che chiudeva la Lombardia. Questo è quanto accadde. E poi ancora vediamo perché si continua a parlare di questa vicenda anche nelle pagine successive. Allora guardate già questo titolo insieme a me. I soldati già pronti a chiudere ma l'ordine non arrivò mai. E allora nella parte finale qui che cosa c'è scritto? È il 3 marzo. Non c'è ancora una decisione ufficiale ma la zona rossa sembra cosa fatta. La sera del 5 marzo al Palace Hotel di Verdellino arrivano 100 carabinieri del reggimento di Milano. Davanti all'albergo sono parcheggiate camionette blindati. Noi siamo pronti, dicono. A due chilometri di distanza al continente Aldiosio sotto ci sono altri 100 poliziotti. Poi 80 soldati dell'esercito e altri 50 finanzieri. Tutto è pronto per la zona rossa. L'ordine non arriverà mai. Alzano Lombardo e Nembro diventeranno zona rossa solo il 9 marzo. Insieme all'arresto della Lombardia e dell'Italia. Questa è la ricostruzione che viene fatta sostanzialmente dai giornali. A proposito di quanto avvenne sul perché non venne dichiarata tempestivamente zona rossa. Cioè non venne cintata quella zona. Continuiamo a parlare però di virus. Vi segnalo questa intervista sempre del Corriere della Sera a pagina 11 a Remuzzi. E allora il titolo Nord, Centro e Sud dell'epidemia ha avuto tre diverse facce. Si cerca un po' di ricostruire quanto è successo in quelle settimane. E questo è il momento forse per chiarire come si è espanso il virus. Allora è più corretto parlare di tre diverse manifestazioni dell'epidemia. Non sono il solo avere questa opinione. La condivido per esempio con Donato Greco, un grandissimo esperto di epidemia. Quando è stata annunciata la chiusura della Lombardia, molte persone sono partite per il sud. Oltre 800 solo da Milano, sottolinea Remuzzi. Ma nelle regioni meridionali i casi di Covid sono stati estremamente limitati. Come si spiega il motivo? Non può essere ricondotto solo alle pratiche di distanziamento. Credo che in tutto il Paese l'80% delle persone rispetti le tre regole anti-Covid. Le uniche efficaci, lavaggio frequente delle mani, distanza interpersonale di almeno un metro e uso della mascherina. Così scrive Remuzzi. E poi andiamo sulla stampa perché c'è un colloquio, una dichiarazione del Ministro Speranza, il Ministro della Salute, a proposito del vaccino. Dice il vaccino arriverà fino a autunno, il Ministro dice pronti alla seconda ondata. Questo alla luce anche di un'intervista ospitata ieri dalla stampa a Fauci, uno dei massimi esperti virologi degli Stati Uniti. E allora ha detto, dice prepariamoci a una possibile seconda ondata. E allora, riprendendo queste parole, proprio il Ministro Speranza dice una seconda ondata o epidemica o una recrudescenza non accetta, ma è possibile. Quindi bisogna essere pronti. Sulle misure restrittive, Speranza lascia pochi margini di allentamento. Il DPCM che ha sancito le riaperture del 18 maggio scade domenica. Il Ministro ha annunciato un nuovo decreto che confermerà l'obbligo del distanziamento, delle mascherine nei luoghi chiusi, della quarantena per positivi e casi sospetti, e il divieto di assembramenti. Dice, siamo sulla strada giusta, ma il nemico non è vinto. Per questo non bisogna abbassare la guardia nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti per la riapertura delle attività produttive e commerciali. Così è quanto dice il Ministro Speranza. Andiamo a vedere, c'è un'intervista su Repubblica al Ministro Bonetti, delle pari opportunità e famiglie, a proposito degli asili nido. Dice, impossibile riaprire ora, ma lavoriamo per settembre. Almeno i centri estivi sono salvi. Questo è quanto dice molto rapidamente. E poi, a proposito degli Stati Generali, vi segnalo questa intervista ad Antonio Tajani, a proposito del fatto che non ci saranno le forze di opposizione all'incontro di Villa Panfili. Dice, se ci convocano andiamo a Palazzo Chigi, siamo pronti al confronto. Noi dell'opposizione non ospiti come gli altri. Questo è quanto rivendica appunto Tajani. Andiamo a vedere un'altra intervista sulla stampa. Maria Elena Boschi, il capogruppo di Italia Viva, ha la Camera. Dice, Conte poteva coinvolgerci di più, non è inamovibile, ma siamo leali. E allora, io mi fermo qui con la rassegna stampa. Pronto, c'è Paolo Sottocorona. Stanotte qualche goccia di pioggia è caduta a Roma. Chi ci aspetta per le prossime ore? A te Paolo, buongiorno. Buongiorno. Beh, qualche altra goccia direi c'è in giro. In realtà, anche ieri, sempre in maniera molto irregolare, ma ci sono stati i temporali anche in qualche caso piuttosto forti. Questa mattina ci sono già i temporali. Sono effetto del riscaldamento diurno, è vero, ma durante la notte è il mare a essere più caldo e infatti i temporali a largo della Sardegna, sul mare, sul Tirreno Settentrionale. Toccano le coste, vedete, in grosso modo all'altezza dell'isola d'Elba, di Capraia, però sono ancora in qualche caso sul mare. Golfo di Napoli, tocca terra ovviamente, ma insomma si formano sul mare. E poi ancora il medio adriatico, l'alto adriatico. Quindi questa instabilità c'è. Di notte si attiva sul mare, di giorno si attiva sulla terra. Che cosa succede? Nella prima parte della giornata di oggi, queste sono le piogge accumulate. Vedete che sono di discreta quantità anche sulle zone del centro, si affacciano anche al sud, la zona più intensa ancora una volta, quella dell'alta Toscana, e se no fenomeni, diciamo, meno intensi di quelli di ieri. La cosa particolare, diversa dagli scorsi giorni, è che nella seconda parte della giornata di oggi, cioè quella che prende il pomeriggio, in cui di solito questi fenomeni diventano più frequenti, in realtà c'è una leggera attenuazione rispetto alla mattina. E questo è un segno, perché vedete che scompaiono quasi del tutto al sud, deboli, in prevalenza deboli al centro, anche al nord c'è qualche fenomeno isolato, ancora sicuramente si attiva, però meno di ieri, addirittura meno di questa mattina. È segno che qualcosa cambia, e infatti nella giornata di domani, vedete il tempo diventa quasi ovunque stabile, qualche pioggia residua molto debole, sul Piemonte occidentale, però è una situazione molto più tranquilla. Tutto passato? Insomma, perché se andiamo a vedere la giornata di sabato, vedete che si riattiva qualcosa al centro-sud, ancora una volta la Toscana, la parte occidentale, le piccole macchie gialle ci parlano di qualche temporale, quindi è un tempo non del tutto risolto. È vero che ci sono anche zone in cui comunque non piove. Le minime di questa mattina, leggermente scese rispetto a ieri, anche i temporali che si formano durante il giorno contribuiscono a rinfrescare un po', e quindi le minime un pochino sono scese, niente di molto fuori media, ma insomma non sono sicuramente alte. Chiudiamo con lo stato dei mari, più tranquilli quelli meridionali e orientali, poco mossi, mosso il tirreno, questa zona dell'alto tirreno, Mar Ligure, con questo colore che dà un po' sul viola, direzione sud-ovest, mare, molto mosso. Parleremo anche di questi paesaggi subito prima delle 7.55, adesso pubblicità, e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio, da più tardi.